Ciao a tutti, voglio mostrarvi come ci si può iscrivere al sito di Spoonflower. Dunque, se voi andate al link www.spoonflower.com vi troverete su questa che è la loro home page. Dunque, la prima volta che arrivate qui dovrete fare il login oppure appunto iscrivervi. Io sono già iscritta, quindi vado sul login e posso già qui inserire la mia mail e la mia password. Però se voi appunto siete nuovi di Spoonflower, dovrete creare un vostro account. Quindi dovete cliccare qua, crea un account. A questo punto vi troverete su questa pagina dove appunto potete creare gratuitamente, liberamente il vostro account. Metterete qua il vostro nome, il cognome e il vostro indirizzo mail. Poi vedete qua c'è scritto Screen Name, cioè questo è il nome che risulterà poi sulla vostra pagina. Perché voi comunque avrete sempre una pagina dedicata ai vostri disegni, che potrete rendere pubblici o meno. Loro la chiamano anche vetrina, shop. Allora, quindi voi potete tranquillamente mettere il vostro nome e cognome ma poi risultare come per esempio, che ne so, l'Allegra Fattoria Design o quello che vi pare. Cioè dare un nome alla vostra vetrina. Oppure semplicemente scrivere il vostro nome e cognome. A questo punto qui metterete una password, la riscriverete per sicurezza, affinché si possa essere sicuri che è stata digitata correttamente. E qui voi potete togliere questo segno qui se non volete ricevere settimanalmente una mail da Spoonflower che vi dà delle notizie, se ci sono novità, di nuove stoffe, di nuove offerte. Quindi se volete la spuntate e così non vi arrivano mail, se no la lasciate. E a questo punto schiacciate sign up e vi scrivete. Oppure qua vi dice anche che potreste anche tranquillamente usare già il vostro account di Facebook se già lo avete. A questo punto io invece vado a login perché già ho il mio account. E dentro. Così vi mostro, diciamo, voi a questo punto cosa riceverete via mail. Riceverete una mail, una lettera sulla vostra casella di posta dalla quale voi andrete a confermare l'iscrizione. A quel punto voi potrete appunto facendo login finalmente entrare in questa pagina qua che è la vostra pagina di Spoonflower dove qui la prima volta che accederete non avrete un'immagine. La potrete andare a caricare voi. Vedete che compare la manina. Se io clicco qua posso appunto accedere a una pagina dove posso andare a fare alcune modifiche. Per esempio qui dove c'è scritto Browse vuol dire che voi potete andare a cercare sul vostro computer cliccando qua un'immagine da caricare che vi rappresenti. Può essere la vostra foto o anche un disegno che vi rappresenti. A quel punto quando l'avrete scelto cliccherete upload, carica la tua immagine. Ora vedete qua ci sono intanto tutti i vostri dati, potrete mettere i dati, l'indirizzo che vi servono anche se volete fare degli ordini. Poi avete questa immagine qui che sarebbe appunto il banner pubblicitario, chiamiamolo, del vostro shop. Cioè è il banner che appare in cima alla vostra vetrina di disegni. Vedete che vi avvisano che l'ideale è creare un'immagine grande, diciamo larga 740 pixel e alta 100 pixel. Perché questa è la dimensione. A quel punto sempre Browse la andate a prendere dal vostro computer e poi la caricate. E a questo punto torniamo un attimo allo studio home, cioè alla pagina base dove vi trovate dopo aver fatto il login. Dunque voi ovviamente qui ancora non avrete dei disegni. Io avendo tanti disegni caricati ho questa zona in cui compaiono gli ultimi disegni che ho caricato. Poi qui è una zona che si chiama Analytics dove mi risultano tutti i like, cioè tutti i cuoricini che vengono dati dal pubblico insomma ai miei disegni. Questo sempre se mettete dei disegni che rimangono pubblici, se no ovviamente no. E qui ho sempre altre novità se appunto qualcuno ha messo un like, se qualcuno ha fatto un commento eccetera. Ma l'importante adesso qua non c'è nulla di particolare. Beh qua c'è Order History, cioè la storia dei miei ordini. Cioè io per esempio in questo caso adesso il 3 settembre ho ordinato alcune stoffe e compaiono qua gli ordini. Risulta che stanno, è in stampa e quando l'avranno spedito risulterà appunto spedito. Così io so un attimino a che punto è l'ordine. Allora adesso vedete, andiamo un attimo sulla Design Library perché io adesso con questo primo tutorial voglio farvi vedere come si può caricare l'immagine, una prima immagine. Allora se voi avete un disegno pronto da caricare, andando qui alla Design Library, ovviamente qua sempre risultano tutte le mie pagine in questo caso di disegni, cliccate su Add Design e in questo modo potete andare sempre con Browse a scegliere sul computer il vostro disegno. Dovrete qua mettere questo segno in cui voi dichiarate che possedete il diritto di pubblicare, di utilizzare questa immagine. Perché ovviamente voi non potete caricare e mettere pubblica e in vendita un'immagine che invece è tutelata, che con dei diritti d'autore, per esempio un'immagine della Disney, faccio un esempio, non si può ammettere perché dovreste pagare i diritti d'autore alla Disney e così tutte le altre illustrazioni di altri autori. Quindi voi qui quando mettete questo segno dichiarate di possedere diritti su quell'immagine. Se voi per esempio volete caricare una foto, voglio dire, se voi volete caricare una foto, non so, del vostro gatto, di vostro figlio e mantenere privata e non pubblica diciamo l'immagine e stamparvela per voi, lo potete benissimo fare, avete il diritto di farlo, però voi non potete mettere in vendita per esempio la foto di una persona la quale non abbia firmato il consenso ovviamente di essere messa su stop e venduta da tutti. Ok, quindi si deve segnare qua. Quindi una volta che avete selezionato il file, lo iniziate a caricare. Allora state attenti, qua dice che il file non deve essere più pesante di 40 MB. I formati accettati sono tanti, TIFF, JPEG, PNG e GIF. La risoluzione deve essere almeno di 150 dpi, perché se voi caricate delle immagini con una risoluzione troppo bassa, fanno anche schifo, nel senso vengono sgranate, ci vuole una risoluzione di solido in stampa viene richiesta addirittura 300 dpi. Comunque da 150 in superi pattern va bene. E così potete caricare. Adesso torniamo di nuovo alla design library. Allora, adesso vi mostro sempre sulla design library. Facciamo finta che voi abbiate appunto caricato un disegno. Supponiamo che voi abbiate caricato questo disegno qua. Ci clicco sopra, ecco. E una volta che il disegno sarà caricato, vi apparirà qui su quello che sarebbe di base un fat quarter, cioè un quarto di yarda di stoffa. Quindi voi, diciamo, cliccando su smaller o su bigger, avete la possibilità di ridurre o di ingrandire l'immagine. Ovviamente più di tanto non si può ingrandire perché al massimo, diciamo, essendo in base insomma alla risoluzione ci sarà un massimo, dopo non vi permetteranno di ingrandirla più. Però la potete ridurre a piacere. Allora, se volete anche avere una visione di insieme su come apparirà il disegno su una yarda, qui voi vedete chose, scegli la dimensione, no? E quindi voi qui potete andare a cambiare. Normalmente appunto di base c'è il fat quarter, guardiamo la yarda per esempio, io clicco qua, una yarda, è così, quindi diciamo la yarda che è circa un metro, un pochino meno di un metro, avrà quindi questa quantità di teschi, va bene? Se volete vedere invece come apparirà un piccolo swatch, cioè un piccolo quadratino di stoffa, se avete visto l'altro mio tutorial sapete più o meno quanto è grande, sono circa 8 pollici. Qui lo potete vedere, appunto magari voi volete che i teschi siano molto piccoli e quindi li potete ridurre, vedete? Potete fare questi cambiamenti. Dopo, quando avete trovato la dimensione che vi aggrada, ovviamente dovete schiacciare, mi raccomando, save this layout, cioè salva questo layout che ho scelto, questa dimensione, eccetera. Ora, torniamo un attimo al fat quarter, oddio no, qua non c'entra niente, al fat quarter qui, ok? In realtà voi, diciamo, la ripetizione di base è questa, vedete? RRRR, vuol dire che il disegno, proprio il disegno che voi avete fatto, viene ripetuto un accanto all'altro. Però voi potete fare un disegno che è più carino, diciamo, ripetuto così, nel mio caso no, perché mi si scombina tutto, però ci sono dei disegni che possono essere più simpatici, ripetuti con questo modello qua, poi c'è quest'altro modello qua, poi c'è il disegno centrato, supponiamo che voi abbiate fatto un semplice disegno che volete stampato sul fat quarter in questo modo, oppure invertito. E qua vengono degli effetti speciali, quindi potete fare anche esperimenti di questo tipo. Qui sopra cosa c'è scritto? Fabric, wallpaper e gift wrap, cioè noi qua stiamo lavorando sul tessuto, fabric, però poi potete scegliere una dimensione che vi piace sulla carta da parati, perché wallpaper e carta da parati, ci ho cliccato perché non mi ci va, eccola. Ok, altre cose importanti da dire è che voi, però ritorniamo sulla stoffa, perché mi voglio dedicare alla stoffa, ecco qui vi dà il prezzo, cioè se voi ordinate un quarto di stoffa di cotton, di basic cotton, che è la stoffa diciamo più economica, più leggera, che costa la yarda 17 dollari, ovviamente un fat quarter viene un po' meno, viene 9 dollari e 45. Ovviamente se voi prendete pezzi di stoffa più grandi, di solito hanno uno sconto, sono più convenienti, quindi insomma dipende da quello che dovete fare, ovviamente una yarda, che sono quattro volte questa stoffa qui, conviene rispetto a comprare quattro quarti di stoffa, va bene? Ok, e a questo punto se voi la voleste ordinare dovete ovviamente schiacciare qua, add to cart vuol dire aggiungi al carrello. Vi faccio vedere ancora una cosa qui, scegli Chosa Fabric, scegli la fabbrica, eh sì la fabbrica, il tessuto, qui vedete potete scegliere i vari tessuti, ovviamente lo sceglierete, io vi consiglio solo dopo aver ordinato da Spoonflower gratuitamente, cioè con le spese di spedizione gratuite, e al costo di un solo dollaro, il libricino con tutti i loro scampoli, va bene? Che risulta credo qua nell'home page dovrebbe risultare, eccolo qua. Get a sample pack, add to cart, cioè se voi la prima cosa che fate quando vi siete iscritti su Spoonflower vi conviene ordinarvi questo libricino, va bene? In modo che vi arriva il libricino a casa e poi dopo scegliete con comodo le stoffe. L'ultima cosa che vi dico in questo video è, torniamo vabbè, lo studio home, che quando voi avrete caricato il vostro disegno, andiamo a prendere questo qua dei teschi, sempre torniamo sui miei teschi, allegri, ok, avrete la possibilità, vabbè, di dare un nome al disegno, dare una descrizione, aggiungere qui delle parole chiave, questo vi può servire se dovete pubblicizzare il vostro disegno, ovviamente se voi volete solo mettere su Spoonflower un disegno privato che vi stampate per voi, questa parte non vi interessa, va bene? Ora, se voi schiacciate qui, vuol dire che vorrete rendere pubblico il disegno, se non lo schiacciate il disegno rimane, se non cliccate qua, diciamo, il disegno non è pubblico e quindi nessuno lo può vedere, lo vedete solo voi. Ora, qui io non posso cliccare per il momento, perché? Perché qui lui dice, c'è scritto, vorrei poter vendere il disegno al pubblico, ma prima di poter vendere al pubblico il disegno, nel caso voleste guadagnarci, voi dovete avere almeno ordinato una piccola prova, c'è un piccolo scampolo di questo disegno, per aver controllato che i colori siano come pensate voi, perché spesso nel monitor sono in un modo e poi sono in un altro, che la ripetitibilità è corretta, finché non lo vedete stampato non siete sicuri, e quindi Spoonflower mette questa regola di base, che tu puoi mettere in vendita il disegno solo se ne hai ordinato, o preventivamente almeno un piccolo scampolo. Quando l'hai fatto, allora a quel punto vedrete, quando avrete ordinato vi sarà arrivata la stoffa, che qui sarà possibile cliccare e addirittura sarà possibile venderlo come, vi faccio vedere su uno che è già in vendita mio, che ha il permesso, lo potete mettere in vendita come stoffa, ma anche, aspettate che vado giù qua, dai vai giù ti prego, abbi pietà di me, ecco, come stoffa, come carta da parati, come gift wrap, cioè come carta da pacchi, va bene? Con questo concludo il mio primo video di spiegazione, spero di essere stata utile, a presto!